Purtroppo i numeri della povertà in città aumentano a dismisura, ma fortunatamente anche la generosità dei nisseni è veramente sostanziosa. Queste le parole del presidente della sezione nissena della Croce Rossa italiana Niccolò Piave. Nei giorni a ridosso del Natale sono stati circa 600 i pasti distribuiti in tre giorni dalle famiglie che appartengono alla fascia economicamente più svantaggiata della città. Ben 200 i pasti consegnati per la vigilia, oltre 400 quelli tra il Natale e Santo Stefano grazie ai donatori. Così i volontari della Croce Rossa italiana con i cuochi della cooperativa sociale Etnos insieme all'istituto Testa Secca di Caltanissetta e all'associazione panificatori di Caltanissetta hanno lavorato in rete. Le festività natalizie possono divenire il periodo dell'anno in cui la solitudine fa sentire maggiormente i suoi effetti. Lo sanno bene i nostri volontari, dice ancora il presidente Piave. Sono tante le famiglie in gravissime difficoltà economiche, spiega. Molti genitori hanno perso il lavoro o non lo hanno mai avuto oppure hanno problemi di salute o sono sopraffatti dalla solitudine. C'è chi non ha neanche la possibilità di acquistare la bombola del gas. Inoltre presto sarà trasformato il servizio di unità di strada in unità mobile di assistenza ai fragili per incrementare le competenze stringendo accordi commerciali con enti e associazioni che oltre a fornire l'invenduto potranno effettuare donazioni di vestiario, giocattoli e altri beni che le ditte potranno donare alla Croce Rossa italiana e che saranno destinati ai bisognosi. Tra i donatori in questi giorni di festa anche l'amministrazione penitenziaria di Caltanissetta che provvede a consegnare i pasti non consumati dai detenuti completi di frutta, verdure e condimenti come consente al regolamento penitenziario e poi la Croce Rossa provvede alla distribuzione alle famiglie o alle menze sociali della città.